Questa è una di Vicenza che spacciava droga e lasciava ricevuta. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. è ma già una massa eh 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 forse è una buona oh big bang oh it's a big aim ah questo è perfetto questo è perfetto ah aspetta no no fai dove è andato quello seguilo seguilo eh al sinistro dove sta andando cazzo sta il macello aiuto chi è che mi sta fregando le cose qua pescilla pescilla Io sto seguendo questo, cazzo, qua è un malpazzo, mi chiude le porte dietro. Madonna mia, Madonna mia, un malpazzo. La donna mia, l'ha affreddato in mezzo secondo. Dove stanno? Tu hai ucciso uno. Eh, sì. Non è che mi stanno mirando. Quando esco qua mi mirano. Oh, questa me l'ha regalata questa uccisione. Era lì per l'uccisione. Cazzo, strozzatura. Mirino, perfetto. Non ce l'avevo l'inizio di rosse. No. Sono l'inizio di rosse. Dove stanno? No. Oh, no. Non c'è più niente Ma perché c'è ciò che mi arriverà da dietro? Io ho preso quella rossa, perché anche tu faceva pompa Mi mirano Sto seguendo a questo È difficilissimo stare presso a questo Eccolo Eccolo Qua qua Ma che stai spara? Ma ci stiamo in mezzo a due squadre Cazzo sta spando? Ecco la qua, vieni vieni C'è una scelta C'è una scelta C'è una scelta Che hai lasciato munizioni rossa? C'è una scelta Ti ho lasciato tanta munizioni verde in quella casa Ci siamo munizioni Quale verde? Qua ti ho lasciato quelle verde No, dico, sono riuscito a... Quella me la prende Sì 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 Mamma mia, stanno a fuori, oh Mamma mia, c'è la... Guarda, guarda, guarda Ammazzati tutti Dov'è l'amico di questo? Oh, sento muoversi, qua, qua Ok Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Un buon sordo Mamma mia, strage sta partita Oh, stavano lì Ho visto un raid, nettamente Eccola, eccola Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Mi devo curare, mi devo curare Mamma mia, fortissima Aspetta, i unit Hell, yeah Taka video Crasso Unip 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 Ah, era buono quello. Cazzo, nessuno che ha munizioni rosse. Ho lasciato un po' di segno. Ho lasciato un po' di segno. Sì, vediamo se sta facendo la live. No, c'è la crema. Ah, no, non è più disponibile. Niente, no, è un cazzo. È un cordione. No, niente. Andiamo, che sta a fare? Prenditi il Skullpiercer. Ma io non ci ho preso tutto da qua. Ah, ci sta la munizioni rosse. C'è la carabina, mi ritengo questa. Ma questo vuole morire con la serie, questo fiore. Si serviamo a questo, comunque... È fatta. Ma questo deve fare un calcio blu, ovvio. Si servono la siringa? Ah sì, vabbè, ovvio. Oh, via, 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 via. Sono deficiente qua che continuo a luttare. Che motoli abbastanza? Perchè. La paese ruota è arrivata. ... ... ... ... cazzo 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 c'è un portale non andai non andai cazzo vai non sei da solo oh è andata a terra aspetta ti tiro le granate coprimi ho ucciso uno ucciso l'altro oh sta l'altro chi l'ha ucciso abbassare tutto qua sta torna verso indietro dai bengalore dai bengalore aspetta aspetta provo a venire aspetta quanti sono? si è scappato no madonna mia madonna mia che cazzo ho fatto? aspetta un attimo non mi muovere si rilascio tutto sta in mancello di secolo non mi muovere 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 attenzione due squadre di basta clamoroso eh questo è clamoroso eh questo sta a fare una cosa che non ha senso perchè non ci sono cose guarda guarda sto pazzo da legare non serve a un cazzo quello che sto facendo scusa ma il tuo life come hai fatto sai cosa del life run per curarsi sei sei tu life sta trovando bende o in realtà ce l'ha vicino sei sicuro magari ce l'ha vicino si deve curare urto la banda abbiamo che cazzo sta facendo si in realtà ce l'ha bene a buttare vedete sta buttando no vabbè è clamoroso è clamoroso quello che sta facendo si ma mo che cazzo facciamo vabbè vediamo il supporto morale non so non so forse ci lascia un'arma se è intelligente mamma mia che cazzo di fenomeno tu li vedi non ne vedo non ne vedo non ne vedo vediamo questa area ora per la scuola ford ford watch ho una shotgun bolt non c'è niente non c'è niente non c'è niente oh 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 si prendo tutto qua cazzo buono 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 non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente aiuto ah mi spara mi hanno sparato comunque non so ne che cosa vi sto curando dove state dove state ho fatto l'andrea aiuto non c'è un cazzo prendi 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 e ora che faccio oh stiamo vicino a questo altro non possiamo fare arrivano no io lo capite sono in tre seguilo 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 c'è un cecchino attaccati attaccati non c'è altro possibile sta sopra di noi possiamo vincere pure curandoci cazzo hai trovato no prima ti ho visto uno spitfering eh lo so che culo non c'è la wing dove sta andando dove sta andando no 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 cazzo sta facendo cazzo sta facendo ma che era un drago sembrava quello sai delle sultanze tipo un figlio che cazzo sta facendo corri 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 no 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 segui sempre questo non fare altro ci ha lasciato venire per là ci ha lasciato venire per là qua ci deve mostrare che cazzo sta sparando questo ah bravo bravo mamma mia ma che cazzo un mostro di tecnica un mostro di tattica da su pazzesco clamoroso clamoroso indica di se li vedi io vedo l'altra porta cazzo sta a fare i mani qua e curati cioè noi moriamo però lui si può curare ma che tolla è entrato è entrato oh sta dentro oh 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 che cazzo sta facendo oh 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 no no non ci credo non ci credo ma quello è morto co- ma l'ha ucciso lui? che fenomeno allucinante questo va su youtube per forza cioè mamma mia mamma mia mamma mia eh sì eh beh con questa partita è il minimo cioè mamma mia sì sì ma comunque non l'ha sì ma comunque non l'ha ma comunque non l'ha non l'ha che non l'ha ma non l'ha